Sì, indubbiamente è propaganda, propaganda rivolta all'interno per galvanizzare la nazione. Questo è normalissimo, è sempre accaduto, ma nello stesso tempo è un avvertimento all'Occidente, per così dire, cioè non sottovalutate la nostra capacità, la nostra possibilità di colpire. Quindi è un doppio messaggio, interno ed esterno, e sappiamo anche che il gradimento a Putin è andato crescendo dal 24 febbraio in avanti, è passato, ormai siamo oltre l'80%, e non è solo propaganda, c'è effettivamente uno stringersi intorno al capo, questo è indubbio. Però ripeto che noi dobbiamo uscire da questa logica dei buoni e dei cattivi, dobbiamo abbandonare l'idea che tutto il male sta di là, per così dire. Perché questo è un modo studiato dai psicanalisti, quando noi vogliamo salvare noi stessi, pensiamo che il male non ci appartenga, appartiene all'altro. Ecco, noi dobbiamo invece renderci conto che anche noi, vuol dire, anche il male è fatto dentro di noi, noi siamo intrisi anche noi del male. E poi comunque dobbiamo anche fare lo sforzo, in questo sono molto gramsciano, Gramsci dice che quando parli con un avversario cerca di mettersi nei suoi panni per capire il suo punto di vista. Allora, su questo penso lei abbia ragione da vendere. Nel senso che credo a questo...